Buongiorno a tutti, buongiorno. Ieri mi hanno segnalato che ho dato la data sbagliata al concerto, che scemo che sono. Oggi alle ore 19, al Lido di Saranzano, ci sta il Maestro Candoni, una poetessa locale, che scriverà le loro poesie. La poetessa scriverà il Maestro Candoni suonerà. Vi raccomando, voglio a tutti gli iscritti del mio canale, quelli che ho pubblicato, mi raccomando, venite, venite, venite. Meriterà la serata, c'era il tema sull'acqua, se lo ricordo bene. Venite, venite, venite. Mi raccomando, non esitate, vi divertirete. L'unica cosa chiedo, portatevi per le zanziare, purtroppo il posto com'è. Diamo anche spazio anche Lido di Saranzano, farsi conoscere. Il Maestro Candoni ha detto, facciamo farlo, facciamolo. E che dirai altro, vi voglio bene, vi auguro una buona giornata, buon lavoro per chi lavora, chi studia, buon studio, buon esame per chi sta preparando gli esami. E mi raccomando, fate i bravi, venite tutti, dal 1 alla 0, tutti venite, mi raccomando. Fate vedere che amiamo la musica, la bella poesia, domanda, fate i bravi, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, date la possibilità di conoscere questo evento. Avvisate il più possibile le persone che vengono in teatro, sono state 190 persone e ci piacerebbe, per me, dare possibilità adesso d'estate, ci può uscire un po' di più, è caldo la sera, venite lì, non dico 5.000, ma più gente viene che viene bene. Dai, diamo la possibilità di far conoscere il Maestro Candoni, altri amici, guarda che ho un amico pianista, bravo, vedi, che tu, boh, così. Passaparola, oggi, l'idea di Sananzano, ore 19, mi raccomando, venite, venite, venite. Boh, arriviamo noi, sono arrivata la farmata, che adesso è qui, sopra di me, adesso arriva la corriera, saluto il dottor Domenico Vitelli, mio fratellino, saluto Enrico Cossutta, che è a Palermo, da Palermo è volato in Giappone, buon lavoro anche a te, fratellone, saluto tutti gli altri, saluto Tiziana, Ivana, Graziana, grazie a delle persone che sono iscritte al mio canale, che si iscrivono al mio Facebook, purtroppo non faccio più live, come sapete, è che dirà altro, niente, sono stanco, volevo ancora dormire, oggi potevo prendere ferie, ma no, vado a lavorare, faccio vedere che sei un buon cittadino, buon lavoratore, fate i bravi, iscrivetevi al canale, venite a vedere il concerto, i prossimi eventi saranno, non so ancora bene, organizzate la data, sempre a strananza, non so, questa volta sarà solo lui, dopo non si sa mai, dopo sarà qualche serata anche a Vuffelcone, non so, ci vedrà, e vedrà, boh, amici miei, vi auguro una buona giornata, un abbraccio forte a te, a voi tutti, e che dirà che, un bacione a Antonelle che conosco, quella di Antonella Nardini da Montelupo, saluto Antonella da Cagliari, Antonella da Massacarrara, con suo sole della Palantina, Antonella dalla Liguria, e boh, chi dirà altro, niente, saluto tutti, saluto anche il campanaro 1989, saluto Lorenzo, e tutti voi, vi voglio, vi voglio bene, vi voglio presenti stasera, saluto anche i foto, dei ex fotografi, i coni di Pantlini, Bologna, che vengono, che dirà, ringrazio, grazie che mi danno anche un passaggio per portarmi lì, perché lascio che il maestro quando ne vada prima, così si prepara l'evento, scoglieva a fare, boh, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al canale YouTube, e in futuro, pensavo, adesso vediamo se il maestro Candone è d'accordo, di creare un canale YouTube, solo per lui, io lo riprendo, e poi carico quel peccetto, non tutto, vediamo, voglio vedere, parlare prima con il maestro Candone, prima non posso farlo io da solo, perché lui è il creatista, io sono l'umile collaboratore, non sono un umile operatore del Vigna del Signore, non lo so, ma collaboro con il maestro, boh, e che vi ha detto, niente, ho fatto un buon caffè, il caffè magic, e boh, adesso sono qui, che sto aspettando la coliera, si fa lavorare, e vi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi, venite in tanti, oggi alle ore 19, facciamo conoscere l'evento, e dite venite a sentire questo evento, e speriamo prossimi concerti, ancora più gente, vogliamo, dai, facciamo vedere che 190 persone in teatro, e dove venire il minimo meno il doppio, fate venire, fate conoscere l'evento, dai, un bacio a tutti, saluto a tutti, vi ringrazio, e collaborazione con la OB University, pro loco di Saranzano, e bla bla bla, le vicende, il comune di Saranzano, boh, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi, fa il quattro uno su YouTube, vediamo se riesco a combinare col maestro se accetta, faccio un canale, io video solo un canale solo per lui, vediamo, questa è la mia idea verrà da fare, ma, dovevo vedere, devo fare proprio la mail, e tutto, vediamo cosa vi dirà, questa è la mia idea, ma, dovevo prima devo spolverare a lui, ma ve l'ho detto anche a voi, vediamo, non si sa mai, un abbraccio forte, e che mi raccomando, che Dio è con noi, viva la musica, e domani ci sta, domani sera, è a Mo Falcone, dovrebbe essere la fissa della musica, e poi, un altro concerto, non so, qualche altra parte, sempre di qua, e poi si vedrà, venite, 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 venite oggi, oggi saprete tutti, chi è della zona qui, iscrivetevi, guardatelo, sentitelo, guardatelo, mi raccomando, postate le vostre, se fate una live, un messaggio, nei vostri social, oggi, ore 19 di 2.30, poi, mi raccomando, vi faccio ambasciatore della bella musica, mi raccomando, saluto tutti, mi raccomando, vi voglio bene, sono un po' robotti, nasali, nasali, bene, dopo, cambiamo, è normale, gli orecchi, ora stanno bene, mi è passato, ringrazio la dottoressa Giulia, che mi ha levato questi tappi, ho fatto una settimana a casa con olio d'oliva, ma con tutte le stupidate che si compra così, meglio, olio d'oliva, e poi ho messo dentro, e dopo, andare dal proprio medico, a un dottorino, a un pronto soccorso, le vada, a me in un pronto soccorso non ci vado, perché ho avuto una bella sorpresa, che quando ho chiesto la dottorino, che si chiama il dottore, che era di turno, mi ha dato una pastiglia, mi ha fatto allergia, forte allergia, ero rosso, come il peperone, mi sono levato la pelle, facevo le battute di video, video, video su YouTube, Facebook, chi vuole la mia pelle, beh, basta, adesso ho già dieci minuti che parlo, stiamo modlietti, mi riposo un pochino, la lingua, vado avanti, buon lavoro, mi raccomando, oggi è le ore 19, lì del Tranzano, venite, 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 mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al canale, venite, seguite il maestro Cantona, e facciamo conoscere questo evento, e i prossimi eventi che sarà, mi raccomando, venite, 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 vi voglio bene, un bacio, a tutti e a tutte, saluto i miei parenti, i miei amici, del todo Brasil, Mexico, America, Argentina, argentina, ecco, saluto il maestro Tito Nut, che è un stimatore del maestro Cantoni, maestro Merino, del Messico, il più grande pianista del Messico, anche lui lo segue, stimato il maestro, e tutti gli altri, saluto i cantanti lirici, e tutte le persone, mi raccomando, venite, oggi è le ore 19 in Tranzano, dai, facciamo vedere, video in Tranzano, fatevi vedere, chiamiamo la bella musica, la poesia, dai, buona giornata, e che dire, vi voglio bene, siete sempre nel mio cuore, e nelle mie preghiere, pregate per me, e questa è una preghiera, che è il mio sogno, che sia vero, posso dire che il grande maestro, Dimitri Candoni, che è debutto in un grande teatro, e poi ho accompagnato quella maestra Sara, o anche altri soprano, se siete piaciuti il pianoforte, volete imparare a suonare, andate alla scuola, che è dove lui insegna, la world music, è una bella scuola, di giovani, di insegnanti giovani, bravi, le notizie info di più, chiedete al maestro, chiedete a me, io vi dirò la data, vi dirò, vi dirò meglio, ora, saluto a tutti, un bacio a tutti, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, Franco Fondri, questo è l'importanza, perché, farò oggi forse qualche video, e qualche foto per il maestro, tant'è permettendo, si fa lo stesso, anche se siete intemplare, e tutto il resto, vi voglio bene, sono qui alla fermata, come si vede, e adesso vado a lavorare, vi auguro una buona giornata, buon lavoro, buon studio, eccetera, eccetera, chi impigna una buona prigione, un bacio, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al canale Franco Tonser, vedrete delle belle, prossimamente, grazie ai 120 iscritti, facciamo crescere il canale, grazie ancora, e vi voglio di bene, grazie di cuore, saluto a tutti, grazie a tutti, vi voglio bene, iscrivetevi, ciao a tutti, che dico, aspetta prima che mi casca il telefono, ciao, ciao a tutti, un bacione, tutto del Brasile, l'Italia, tutti, vi voglio bene, un bacio, buon lavoro, anche a voi, ciao, 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 ciao,